Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale! Oggi un video speciale, proveremo a fare lo slime con due suoi ingredienti Amito di Nice e acqua Fateci sapere se per voi sarà un day kick o un serino Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Se vi piace questa tipologia di video lasciate un like e iscriveteci cosa vorreste vedere nel prossimo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!